Il Molise in Cina per promuovere il proprio territorio su invito delle istituzioni di una delle più importanti regioni della Repubblica Popolare Cinese con oltre 60 milioni di abitanti. A raccogliere l'invito è il presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno, che da oggi fino al 7 giugno parteciperà al Forum on Global Production Capacity and Business Cooperation, che si terrà alla presenza dei delegati di ben 78 paesi, tra i quali oltre l'Italia, Russia, Stati Uniti e Francia. La missione, i cui costi saranno interamente a carico del governo cinese, è stata promossa da Jean-Paul De Iorio, il quale ha spiegato come vi è un grande interesse da parte dei cinesi nei confronti dell'Italia e in particolar modo per le regioni del centro-sud, come il Molise, per promuovere scambi commerciali ed eventuali partnership nei settori più rilevanti dal punto di vista sociale. La costituzione della delegazione regionale è stata deliberata dall'ufficio di presidenza e sarà guidata dal presidente Cotugno, che avrebbe accettato immediatamente l'invito della regione cinese e convinto che siano possibili forme di cooperazione per lo sviluppo del nostro territorio.